Buonasera a tutti, io sono Fabio De Cillis, responsabile per il mercato italiano di IG. Intanto ringrazio vivamente per questo riconoscimento, siamo davvero lieti di essere entrati a far parte del mondo dei certificati oramai circa un anno fa. Come gruppo abbiamo scelto di ampliare la nostra offerta di strumenti finanziari entrando in quello che è un segmento di mercato molto interessante in Europa e anche in Italia, un mercato che è nato già da tanti anni ma che sta vedendo uno sviluppo particolarmente interessante nel recente passato. Quella che però è la nostra storia è una storia legata direi al mondo del trading in maniera esclusiva ed è per questo che nell'ambito dei certificati abbiamo fatto una scelta che fosse la più vicina alla nostra realtà, al nostro mondo e ai nostri trader. È per questo che abbiamo scelto nell'ambito dei certificati di iniziare con una proposta di certificati turbo. Ma non solo, forti proprio della nostra esperienza sul mercato, ormai siamo operativi da oltre 45 anni, abbiamo voluto proporre un prodotto che fosse nuovo, che portasse appunto delle novità e che potesse garantire ai trader una maggiore flessibilità operativa. Per questo la piattaforma Spectrum e per questo i Turbo 24, che ricordo sono i primi certificati quotati H24 al mondo. Naturalmente noi però non ci fermiamo e stiamo lavorando a tutta una serie di novità che presenteremo nel corso dei prossimi mesi. Da un lato per quello che riguarda il prodotto già esistente, quindi i nostri Turbo 24, avremo nuovi sottostanti, incluse le azioni, avremo nuove funzionalità per la piattaforma, che ricordo è una piattaforma dedicata ai Turbo, sulla quale è possibile fare tutta una serie di studi avanzati di analisi tecnica, insomma è veramente molto molto completa e facile da utilizzare. e poi stiamo anche lavorando per proporre degli altri strumenti finanziari che andranno ad arricchire ulteriormente quella che è la nostra offerta.